A quale villaggio siamo diretti di preciso? A Bethlehem. È da lì che proviene la mia famiglia. E tu, Bethlehem, non sei davvero il più piccolo capoluogo di Giuda? Da te uscirà infatti un capo che fascerà il mio popolo, Israele. Tutti. Ecco, tieni. Era l'ultima. Anche tu. Tu pure. Entro a chiedere. Vi prego, è per una donna incinta. Andiamo, dai. Forza. 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 Oh, oh, oh. Pico, la mia, pico. Shhh. 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 Eh? Oh no. Oh no.